Buongiorno, sono Laura Anticchi, vi voglio oggi presentare C.A.S.O. Dovrete loggarvi e quindi iscrivervi al sito o come I.M. Teacher, I.M. Students oppure I.M. Family Member Naturalmente ci registreremo con I.M. e Teacher compilando questo modulo Vediamo ora che cos'è C.A.S.O. C.A.S.O. è ottimo per il Portfolios, ossia per creare delle storie di apprendimento L'utilità riguarda la documentazione, può essere utile per accogliere le prestazioni degli studenti e i loro prodotti Può essere un diario di apprendimento, può essere utile per metà riflettere sui propri processi Serve soprattutto per dare un'unità al proprio sé Che ruota attorno a competenze, che definisce prestazioni Che parla di formazioni compiute nella loro rilevanza È disponibile da browser e da mobile C'è anche un'estensione in Chrome Web Store Cosa permette di fare agli studenti? Registrare audio, immagini, videocatturare, inserire video, inserire file, disegnare e annotare, condividere Cosa permette di fare ai docenti? Creare e gestire classi, massimo 10 Valutare i progressi individuali della classe Pubblicare un blog di classe Una volta che abbiamo fatto logging, possiamo creare una nuova classe Create new class Mi chiederà il nome della classe Metto quinta In questo caso C Ok, mi chiede il grado di scolarità degli studenti E quindi Mi chiederà se voglio che gli studenti si iscrivano con un indirizzo email Così ho creato la classe Quinta C Come vedete E ora posso procedere all'implementazione delle attività Una volta quindi creata la classe Posso andare in Connect student Che possono accedere con il loro, in questo caso, con il loro indirizzo mail Vedete che posso aggiungere mail agli studenti con istruzione E accedere attraverso questo codice Qui è disponibile lo student code Che abbiamo visto prima E possiamo anche invitare i familiari Nella classe quinta C Ho a disposizione un journal Delle activities Inbox, skill e blog Per quanto riguarda il journal Posso condividere delle attività Che sono già presenti Posso postare sul journal degli studenti Foto, video, disegni E aggiungere file, note e link Poi Posso mandare degli annunci Poi posso mandare degli annunci agli studenti In activities posso aggiungere le stesse cose Come vedete In box ho della possibilità di aggiungere studenti Skills, skills e il blog Che mi permette di creare un pubblico website Per il lavoro degli studenti Ritorno in journal E posso connettere gli studenti Mi da il codice E mi dà le... Mi dice come Connettere gli studenti E come mandare E quale messaggio Mandare agli studenti Con le istruzioni Per collegarsi Si possono anche creare dei folders Delle cartelle Create folder Naturalmente posso dare un colore a queste cartelle Potrei scrivere Creare una cartella Aristotele Ok E poi posso creare anche altri Ecco nella cartella Questa è la cartella Aristotele Posso share activity Eccetera Posso comunque inserire dei file Per quanto riguarda la creazione delle cartelle È interessante questa funzione Perché nelle cartelle stesse Gli studenti potranno approvondire i loro file e materiali Precedentemente a SISO Si poteva anche accedere senza e-mail Ma da quanto sto vedendo Nell'aggiornamento dell'applicazione Viene richiesta la registrazione con e-mail Buongiorno Suo Questa è una cartella Per non Grazie a tutti